Nicky ha deciso di organizzare una vera sessione di paintball in bocca. Alcuni pop rock e coloratissimi assassini stanno già attaccando i loro avversari. Sembra che Nicky non si aspettasse un tale calore di passioni e ha urgente bisogno di un estintore. Questo è un vero fuoco d'artificio. È un lavoro di squadra ben coordinato. Chiama rinforzi, non sarà in grado di gestirla da sola. È ora di un delizioso dessert. Alla piccola fragola piace decisamente la nuova casa. Ma a Tom non sembra piacere un cittadino così fastidioso. La fastidiosa fragola non si arrenderà. È pronta a difendere i suoi diritti alla casa fino alla fine, ma a quanto pare non questa volta. Questo Chupa Chups è un ragazzo timido. È difficile distrarlo dalla lettura del suo libro preferito. Sarebbe meglio sostituire il suo costume da bagno tradizionale con un vestito più alla moda, come un bikini, ma il suo cappello è sempre di moda. Tom chiede al varista di preparargli un cocktail Brain Freeze, che hanno già provato tutti i suoi compagni di classe. Sembra molto buono. Così fresco. Sembra che il cervello di Tom non si aspettasse tali carichi e sbalzi di temperatura. Chiamo alla squadra di soccorso. Il cervello di Tom è completamente congelato. Tutti i generi alimentari aspettano di essere chiamati per una gustosa festa. Ma stasera il re della festa è un panino. Non arrabbiatevi ragazzi, la festa sarà più tardi. Ross voleva fare i popcorn per il film. Little Corn era entusiasta di essere un vero popcorn. Il nuovo film d'azione si è rivelato piuttosto affascinante. E Corny si gode il sole e fa già esplodere la pista da ballo. La piccola Mai stessa non si preoccupa di andare al cinema. Le cose stanno diventando rischiose. Oh no! Ross è in ritardo e la bella dai capelli rossi si è trasformata in una bruna. Chi pagherà adesso la sua visita al salone di bellezza? Ross sta finalmente pranzando dopo una giornata impegnativa. Ma il problema è che non riesce a mangiare con le bacchette. Come poteva arrivare a questi sushi? Niente funziona e le sue dita non possono essere allenate. Deve davvero chiedere una forchetta? Ross sta diventando sempre più affamato. Anche rossa ha in serbo un paio di mosse. La gomma da masticare rosa ha una nuova casa carina. Sportunatamente non puoi sempre scegliere i tuoi vicini. A volte puoi incontrare qualcuno dispiacevole. Fortunatamente questo ragazzo si sta trasferendo. Ma l'odore dei suoi calzini non è... Che schifo! Nick sognava di diventare uno stilista. Ecco perché gli piace aggiungere bellissimi accenti ovunque. Un po' di topping rosa e il gelato all'outfit più cool. Solo non c'è abbastanza colore blu per l'equilibrio. Fantastico! Ora lo stile è perfetto. Ma cos'è? Questo accessorio era decisamente superfluo. E come hai potuto rovinare un outfit così cool? Forse è tempo per Nick di sognare un'altra carriera. Cos'è un hamburger senza una salsa deliziosa? Tom ha deciso di aggiungere un po' di spezie al suo hamburger. Un paio di gocce sarebbero carine. Che cos'è? Pare sia entrato sul ring la salsa Tabasco. Detentore del record di Knockdown nella sua categoria. L'avversario semplicemente non ha possibilità. La lotta è finita e Tabasco ha stabilito un nuovo record. Diventando il campione del mondo tra tutte le salse. Biscotti al latte. Qualcuno può trovare qualcosa di più buono. La vita di un ragazzo Oreo non è sempre bella. Pensa che diventerà una superstar. Ma ahimè, il produttore Tom ha deciso diversamente. Rompe il contratto con Oreo. Che peccato. Pochi secondi e la sua reputazione è crollata. Così come il suo nuovo completo Armani. Bene, questo è tutto. Sembra che ora sia il momento di passare alla vernice pubblicitaria per la manutenzione. Ora Oreo avrà bisogno di un nuovo agente pubblicitario. E Tom, un nuovo spuntino. La banana con i broccoli passa il tempo in frigo e non vede l'ora che arrivi l'ora della sua stella. La fortuna è dalla parte gialla. Non preoccuparti, verde. Forse verrai scelto per cena. Ross ha deciso di ascoltare l'ultimo album di Billie Eilish. E rendere il suo tempo libero più piacevole con i suoi skittle preferiti. Il lavoro delle caramelle colorate è davvero creativo. Oggi il colore dell'atmosfera nella galleria sarà il verde chiaro. La cosa principale ora è non mostrare la lingua del ragazzo a sua madre. Sicuramente non apprezzerà una foto del genere. Tom ha deciso di aggiungere le cipolle al suo piatto preferito. Ma questo ortaggio si è rivelato troppo piccante e troppo fastidioso. Il povero Tom non è dell'umore giusto per i selfie in questo momento. Ha bisogno di sbarazzarsi di questa odiosa cipolla prima di piangere un intero fiume. Ross ha deciso di fare uno scherzo a Nick e di aggiungere un po' di potenza al suo drink. Tempismo perfetto! La bella Cola non si aspettava di incontrare un bellissimo così incredibile. E ha accettato di uscire con lui. Ma un improvviso terremoto ha interrotto tutti i piani romantici. Sembra che i sentimenti degli innamorati si siano trasformati in un flusso sfuggente di emozioni. Ups, forse almeno il secondo appuntamento avrà più successo. Yo ha deciso di guardare il film e organizzare un'apparizione vincitrice di Oscar sul tappeto rosso per le sue prelibatezze. Tutti sono venuti per mostrare il loro vestito perfetto e per entrare nell'inquadratura dei fotografi. Il bell'Oreo ha impiegato molto tempo per scegliere il suo costume. Peccato che il tappeto rosso non sia stato lungo e Yo dovrà guardare il film da sola, senza i suoi amici. Dove può trovare la sua dolce coppia adesso? Questa arancia ha un temperamento caldo. Sembra una banda di resistenza, ma ha uno scopo diverso. Dopo un allenamento come questo, è tutto sudato. E Nick merita un po' di succo d'arancia. Quando nessuno sta guardando, Tom ha deciso di prendere un po' di marmellata direttamente dal pacchetto. Oh, ha liberato accidentalmente un elfo appiccicoso del lampone. Deve stare più attento con questa ragazza. Si è subito attaccata a questo ragazzo dolce e amante. Che cosa? Qualcuno pagherà. Che dolce vittoria. I compagni di patatine adorano le feste rave alla moda. Questo DJ spacca. Sta spazzando via la pista da ballo con le sue tracce. Ehi, DJ, rilassati. C'è stata un'esplosione di emozioni. Che ne dici di uno spuntino impeccabile? Nick ha deciso di dare a Marshmallow un duro allenamento di stretching. Un po' di riscaldamento prima dell'inizio sarebbe bello. Oggi l'allenatore ha un programma speciale. Sembra che qualcuno non abbia calcolato il carico. È davvero caldo. Porta dell'acqua. Non c'è modo di evitare il dolore muscolare domani. Nick è orgoglioso del suo studente. E ora la flessibilità è come dovrebbe essere. E questo esercizio non è sicuramente pericoloso per la vita. Oggi è il giorno in cui i broccoli devono passare la colata. La terribile attesa. Passa. Non oggi. È davvero un peccato. Non è di nuovo il soggiorno. Tom ha mangiato abbastanza roba salata per la notte. E ora sete. Ma cos'è quello strano suono dal frigorifero? Forse qualcuno ha chiuso il gatto lì. Wow, che bellezza. Probabilmente è assolutamente congelata qui. Che cosa? Un bacio. È impossibile resistere a tanta bellezza. Sì, questo è esattamente ciò di cui Tom ha bisogno prima di andare a letto. Benvenuto. È il preferito dai fan. Uno degli attori più talentuosi nel nostro teatro. Pizza Place. Il suo ruolo nella commedia Red and White gli ha portato fama internazionale. Ogni volta i fan inondano il loro idolo con pomodori freschi. E i critici sono felici di dargli formaggi gourmet. Bravissimo! Pizza!